Taglio del nastro a Montespertoli da Alia Monti Utility del nuovo impianto biodigestore per il trattamento dei rifiuti di Casa Sartori. Nel cuore del Chianti, con un investimento complessivo di 75 milioni di euro, l'impianto potrà trattare ogni anno fino a 160.000 tonnellate di rifiuti da raccolte differenziate, 145.000 di rifiuti organici e 15.000 di verde, producendo circa 12 milioni di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di compost. Oggi è un'importante giornata perché noi festeggiamo la fine lavori, l'inizio della messa in marcia di questo impianto, che è il più grande impianto al sud della Lombardia di tutta Italia per il trattamento delle frazioni organiche e della raccolta differenziata. Qui c'era una discarica, la più importante discarica di Ato Toscana Centro, gestita da Publiambiente, che Alia ha chiuso pochi anni fa, quindi dall'economia lineare davvero qui si passa all'economia circolare. Il Polo è in grado di sostenersi con pannelli fotovoltaici ed energia rinnovabile. Allo suo interno sono stati piantati 360 alberi. Per fare questo progetto abbiamo cercato di realizzare un'opera tecnologicamente virtuosa, come questo impianto di riciclo di rifiuti, ma che anche si inserisse in modo corretto dentro questo paesaggio straordinario che è la campagna toscana. Volevamo anche un po' dimostrare che è possibile ancora oggi fare di nuovo cose belle, utili e appunto in armonia col paesaggio, senza troppi timori, ascoltandolo ma anche senza imitarlo. L'edificio che vedete dietro è l'edificio un po' simbolo di questo impianto, che appunto riprende questa forma circolare, che sta alla base dell'economia circolare, ma si presenta con una forma un po' più complessa, perché poi qui la realizziamo veramente. L'altro è la frazione per la quale eravamo scoperti. L'organico è l'unica frazione che la Toscana manda fuori dai confini regionali per 160.000 tonnellate, che è l'esatta dimensione di questo impianto.